Sullo studentato alla caserma Campomizi la Regione disattende le indicazioni della Commissione Vigilanza. Per questo il Presidente Pietro Smargiassi ha convocato la Commissione per audire di nuovo tutti gli attori, compresa la Regione con l'assessore competente, in un momento in cui pure il problema del caro affitti per gli studenti è enorme. Commissione e Regione avevano preso un accordo preciso, invece i ragazzi dovranno lasciare la Campomizi, che come ben noto dovrà essere restituita al Ministero della Difesa di quella proprietà. Queste sono le ultime notizie che hanno, mentre l'accordo prevedeva che i ragazzi fossero rimasti nella Campomizi fino alla ricostruzione della nuova casa dello studente. La soluzione prospettata nel corso di questi mesi dall'Azù, con vari passi indietro, almeno questo sembra di capire, era lo spostamento in alcuni alloggi dell'Ater, che però non offrono servizi adeguati. La Regione avrebbe quindi intrapreso dei sopralluoghi nel complesso in Moro, disattentendo le indicazioni della Commissione. Eravamo convinti che l'indirizzo dato dalla Commissione Vigilanza tra maggioranza e opposizione al Governo regionale fosse più che definitivo. Invece scopriamo dalla stampa e dagli organi di stampa che stanno trattando questo argomento che siamo tornati punto da capo. I ragazzi verranno sbattuti fuori dal Campomizi, messi in una struttura che non soddisfa tutte le loro richieste. E quindi se questo è il tema riapriamo di nuovo la Commissione Vigilanza per chiedere cos'è che non avete capito di questo argomento. A me sembrava fosse tutto anche troppo chiaro. La maggioranza era d'accordo con noi, avevamo dato un indirizzo al Governo regionale e mi sembra che il Governo regionale stia seguendo tutto un altro indirizzo. Io a questo non ci sto, non ci sto perché avevamo preso un accordo con i ragazzi, con gli studenti e questo accordo viene disatteso. In Commissione anche i rappresentanti sindacali e Lazio per l'azienda del diritto agli studi universitari era presente anche il direttore Paola Di Salvatore che si è insediata da pochissimo e sta esaminando tutte le carte. Insediata il 16 marzo 2023 tra i vari obiettivi, i vari documenti, un'azione amministrativa estremamente complessa, prolifera di tanti adempimenti. Come sapete abbiamo rieperto il Polo Funzionale Canada il 4 maggio e nell'ambito dell'articolazione dell'area tecnica uno dei punti fondamentali è la residenzialità degli studenti oggetto di analisi e anche oggi di convocazione della Commissione di Vigilanza che ricordiamo essere all'interno dell'Aula legislativa regionale. Sul mio tavolo ci sono i fascicoli inerenti di tutto il servizio abitativo residenziale e quindi quale direttore, congiuntamente all'area tecnica, stiamo esaminando in una fase istruttoria documentale le possibilità che possono in un certo qual modo garantire un servizio abitativo per gli studenti sicuro e funzionale in conformità alla legge regionale ma in conformità ad un servizio abitativo per gli studenti sicuro correlato anche ad una ricreatività, ad una socializzazione.